La prospettiva del mutualismo, non è facile come... Il mutualismo vuol dire che noi abbiamo, riconosciamo di avere qualche necessità impellente che nessun altro ci può risolvere tranne noi stessi, come poiché non abbiamo individualmente le risorse per risolverle, ci mettiamo insieme e troviamo una soluzione comune. Abbiamo il dovere tutti assieme, di tutte le nostre organizzazioni, di provare a ricreare dei tessuti sociali e solidari tra di noi. Insieme tra tutte le società di mutuo soccorso possiamo pensare di dare un indirizzo, un viatico a creare queste nuove forme di mutualismo che si stanno già verificando nel tempo. Dobbiamo riscoprire questi ingredienti di stretta interconnessione fra economico e sociale. Il mutualismo è una forma di, almeno per quella che è la nostra esperienza, di autogestione dal basso, di risposta ai bisogni primari e di riconfigurazione e riconquista di una socialità che ricostruisce delle comunità che escono dalla logica del profitto e cercano di immaginare un'alternativa alla società attuale. Credo che il mutualismo sia una sfida ancora attuale ed una sfida che è possibile vincere. Grazie. 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 Grazie.